Musica Si è spento il camion raga, si è spento il camion mentre siamo in autostrada Accenditi zio, accendi, no lo spento io di nuovo Aspetta fermi tutti, ti accendi zio, siamo fermi in autostrada raga Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati alla guida del nostro camion signori miei Che non è nostro perché noi lavoriamo per le aziende che ci assumono Quindi meglio, meno responsabilità Prima di partire col video ragazzoni vi ringrazio per i like, per i commenti Per i suggerimenti che mi lasciate in questo video Per il supporto che state dando a questa serie E di seguirmi sui social sia Instagram che Facebook I link li trovate in descrizione, mi trovate come Maullo941 E se eventualmente volete fare una donazione per sostenere il canale Trovate anche il link per poterla fare Detto questo ragazzoni, partiamo col video Ok ragazzoni, siamo qui nella sezione dei lavori Noi l'ultimo lavoro che abbiamo fatto ci ha portato a Pescara Quindi da Pescara noi dobbiamo continuare a salire Perché l'obiettivo è raggiungere il nord Europa Proprio là sopra, 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 sopra E da Pescara, che lavori ci sono da Pescara? Allora c'è Roma, quello che pagano di più, 3.500 Però Roma sarebbe un tornare un pochetto indietro Non c'è altro Pescara Roma, Pescara no, Pescara Napoli no Pescara Roma Noi dobbiamo salire, dobbiamo salire Pescara Ancona Ancona non è più sopra Sì, Ancona è sopra, dai Ci pagano 3.000 euro È un po' pochino raga Portiamo delle scatole vuote Quindi non dovremmo fare danni per la quale Che l'ultima volta non ci hanno pagato raga L'ultima volta non ci hanno pagato E niente, va bene dai Andiamo ad Ancona raga Accettiamo il lavoro Si va, si va Mamma che siamo messi male raga Io non vedo assolutamente niente Allora accendiamo il camion Ok Il camion l'abbiamo acceso Accendiamo le luci potenti E i terzi cristalli com'erano? Così Ok Il nostro clacson Ok Ce l'abbiamo pure Siamo pronti Dobbiamo andare Sì, dobbiamo partire Dobbiamo uscire da questo posteggio Riesco a fare un'inversione senza fare danno Raga, siamo riusciti a ripartire Forse Io non vedo assolutamente una scippa di dove stiamo andando Non vedo niente Siamo in un deposito di pale eoliche Questo lo riesco a capire Sto cercando di seguire la strada Che è una cosa terribile Il camion si blocca In maniera assurda Stiamo trasportando delle scatole vuote E ci blocchiamo come niente Ottimo inizio di ottimo trasporto amici miei Forse riusciamo a uscire da questo posto di marmellata Ok, sì Siamo riusciti a uscire In qualche maniera ci siamo riusciti Sta diluviando in una maniera terribile Dico io Tutti sti lavori di marmellata Tutti a me albero Lo ciappiamo l'albero secondo voi? Ce lo portiamo con noi ad Ancona l'albero? No Siamo riusciti a evitare l'albero Siamo riusciti a evitare l'albero Non abbiamo fatto grossi danni Stiamo riuscendo Complimenti per la location Complimenti per la location Andiamo avanti Cioè ha smesso pure di piovere raga Cioè siamo usciti dal magazzino Mezz'ora Tutto impantanato Tutto bloccato E ha smesso di piovere Perfetto Grazie Gentilissimo Spegniamo i terzi cristalli E vediamo No, ti ho detto che li devi spegnere zio Altra paleolica Spegnili Mi stanno facendo venire nervoso Ok Dai papamaullo Porta queste scatole A destinazione Quanti chilometri dobbiamo fare? 223 chilometri Spero che prima o poi Prenderemo la tua strada Perché farceli tutti così Nel deserto più totale Sotto le paleoliche Non è la cosa più bella Però guardate che sono carine Le paleoliche Si muovono Che cosa carina Bello, bello Fatto tanto bene graficamente Questo gioco Anche se io ho dovuto abbassare Un attimino la grafica Raga Sennò mi esplode il computer Mamma che curva potente Si ribalta il camion No, no, siamo riusciti a fare la curva L'abbiamo tenuta Grande così Il limite è di 70 Noi stiamo andando a 93 Allora se ci troviamo Un autovelox In questa strada di campagna Signorini Io disinstallo il gioco Perché proprio allora Mi vuole male il gioco Oh, c'ho lo stop Mamma mia Che botta raga Guarda il motore Ma Posso Posso ridere raga Abbiamo spacciato il camion Questa volta davvero Non mi pagano Questa volta Non mi pagano Meglio scappare Appena consegnava il camion Raga Salve polizia Tutto a posto Abbiamo distrutto il camion Mi sono preso un palo Che va bene Va bene così Comunque A mia difesa Devo dire che Quello svincolo Non era segnalato Raga Quello svincolo Non era segnalato Quindi non è colpa mia Se ci siamo presi Il palo davanti Ma non era segnalato Lo svincolo Quindi A mia difesa Non posso dire questo Che poi Era proprio Piantato a terra Cioè si è bloccato il camion Di botto Signori miei Cioè non si è rotto il paletto Dove dobbiamo andare? Dritto Andiamo verso Pescara Come verso Pescara? Noi siamo a Pescara Stiamo uscire Stiamo tornando verso Pescara Per uscire da Pescara Dobbiamo andare ad Ancona Noi Ehm Va bene Ok Siamo entrati in autostrada Raga Mancano 176 km Abbiamo il camion Mezzo distrutto Che voi non lo potete sentire Perché sicuramente L'audio non arriverà O comunque farò dettagli In cui non capiterà di sentire Ma quando cambio marcia Si sente che gratta In una maniera paurosa Cioè abbiamo distrutto Un camion Però va bene Dobbiamo semplicemente Arrivare ad Ancona Raga Abbiamo mezza tanca di benzina Mezza tanca di carburante Più che altro Per arrivare a destinazione Dobbiamo fare ancora 165 km Però ce la possiamo fare Si è spento il camion Raga Si è spento il camion Mentre siamo in autostrada Accenditi zio Accendi No lo spento io di nuovo Aspetta Fermi tutti Ti accendi zio Siamo fermi in autostrada Raga Ok Si è spento Ti botto il camion Mentre camminavamo In autostrada Va bene Vive di vita propria Abbiamo un Transformers Raga Non abbiamo un camion Abbiamo un Transformers Uscita autostrada Ancona dritto Pescara Cassino a destra Noi andiamo dritto Signori miei Che la buona sorte Ci accompagni Perché abbiamo un camion Che vive di vita propria Ci ha superato una panda Ciao pandino In teoria Noi dovremmo Andare a trovare Un'officina Per far sistemare il camion Infatti Nel navigatore C'è una striscia gialla Che mi sta indicando Che io dovrei fare Inversioni In autostrada Per raggiungere L'uscita Che abbiamo saoperato prima Per andare In officina A far sistemare il camion Ma noi ce ne sbattiamo Altamente le pelotas Signori miei Andiamo dritti Per la nostra strada La buona sorte Ci accompagnerà In questo viaggio Forse 123 km alla fine No raga Si è spento di nuovo il camion Accenditi Accenditi zio Accenditi È ripartito Mamma mia Toretto Fast and Furious Signori In autostrada Spegniamo il camion A 80 km orari E lo riaccendiamo Siamo dei pro Raga Siamo dei pro Non si scherza Con noi Non si scherza Allora Ancona a dritto Terni e Roma A destra Quindi andiamo ancora a dritto Si sta a creare un po' di fila Eh vabbè Noi ci spostiamo Aspettate Ci facciamo superare Supera zio Perché mettiamo la nostra bellissima freccia Ci spostiamo sulla corsia di sorpresso Anche perché noi dobbiamo tenere la sinistra Riusciamo a superare sto camion Non vedi se mi si spegne il camion Mentre sto effettuando il sorpasso Se mi si spegne il camion adesso È spettacolare Ciao zio Ma Ma mi è venuto addosso lui Mi è venuto addosso lui raga Mi è venuto addosso lui Cioè sto distruggendo Perfetto Allora raga Ricordatevi Ricordiamoci Noi dobbiamo Canzonare il camion E scappare Perché se ci pigliano Ci mattano in galera Praticamente Allora Stiamo uscendo dall'Abruzzo E stiamo entrando nelle marche Bella così Altro sorpasso per noi raga In galleria Sorpasso in galleria Questa la vedo bella tosta Vediamo se questo ci deve venire pure addosso Ci viene addosso zio? No Riusciamo a fare un sorpasso pulito Ok Intanto dico Stiamo andando a 90 km orari Il limite è di 80 E non abbiamo preso ancora nemmeno un autovelox Spettacolo Bella così Dobbiamo venirci più spesso in questa zona dell'autostrada Non ci sono praticamente autovelox Ok Leviamo la freccia Rientriamo in corsia Perfetto Mancano 59 km raga 59 km Acuna matata Turutu Senza malinconia Turutu Acuna matata Questo camion supero pure Ciao zio Ti saluto col clacson Mo ti supero E vado via Mancano 40 km Acuna matata Acuna matata Va bene Lo sapruttato è che Tutti i lavori che sto prendendo ultimamente con questo gioco Mi fanno viaggiare sempre di notte raga Cioè di giorno l'avrei visto quell'incrocio col palo Piantato Cioè che peggio del martello di torre Era quel palo là a terra Dico l'avrei visto Ma mi fanno viaggiare di notte Sono attualmente le 4 e 45 Le 5 meno un quarto Acuna Dobbiamo girare Dobbiamo uscire Non ho capito se dobbiamo uscire dall'autostrada Nientanto a questo me lo supero Ciao Questa è a porta aria Stai a porta aria? No sono mucche Che cosa stai trasportando zio? Buon trasporto a te Ciao caro Questi stanno andando in vacanza Mi raccomando la vacanza La distanza di sicurezza Mi raccomando Che dice il cartello? Ancona Ancona Bologna Dobbiamo uscire qua noi? Aspettate raga Sono un attimo confuso Rientriamo in carreggiata Ok Perfetto Sì dobbiamo uscire qui Ad Ancona Sud Si è spento di nuovo il camion Perfetto Bello così Mettiamo la fretta No lo spendo io questa volta Sono un pirla Ok Riesce a ripartire? Sì Ok Siamo riusciti a ripartire Tutto bene Tutto bene Qualche finisce bene Stiamo uscendo a Ancona Sud Voglio arrivare il più presto possibile Ancona esplorata Zio siamo ancora in autostrada Però va bene Abbiamo già esplorato Ancona Ho capito Ok Pedaggio pagato signorini Pedaggio pagato Siamo usciti ufficialmente dall'autostrada Questo C'ha questo Con la minicopera Ci ha spassato Che in momenti ci saliva di sopra Siamo ad Ancona Allora dobbiamo andare a destra Quindi rallentiamo Abbiamo messo la freccia Perché siamo corretti Facciamo giusta la rotonda Senza portarci i paletti Dobbiamo andare dritto noi Il problema è che io tra l'altro C'ho la freccia Messa vicino Al pulsante Per accendere e spegnere il camion Quindi certe volte Mi sbaglio E lo spengo Però queste volte Molto spesso è capitato Che si è spento da solo Ok siamo arrivati zio Fermati 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 Oh all'Ikea Abbiamo portato Fermo Zio devi stare fermo Dove dobbiamo andare noi Devo capire Allora da quello che vedo Penso che debba girare di qui No 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 Dov'è il punto delle consegne Ma sembra che io debba andare di qua Ragazzi Non andiamo all'Ikea No andiamo su questa strada Sì Ok siamo giusti Siamo contro mano Ma siamo giusti Alex Omar Ok Sì sì È lì il talentino E dagli che rispendo di nuovo il camion E io sono scemo Accendi Freccia messa Zio devi aspettare un attimo Li fermo E devo consegnare il camion Mi aprite il cancello Grazie Guasta il motore Perfetto Mi si è spento proprio davanti L'entrata del Avranno capito che abbiamo distrutto un camion Non lo so Però mi auguro di no Invio Te lo piazzi in maniera semplice Zio Te lo piazzi in maniera semplice Perché ho paura Posso passare dietro Non rischio come l'altra volta Procedi Nell'area di scarico Dai 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 Riusciamo a entrare Riusciamo a entrare Ok Sterza tutto Sterza tutto Ok Allora consegniamo il carico Signore di me E scappiamo velocemente Perché questi Non me li danno i 3000 euro Questi vogliono Da quando c'era questo spigolo qui vicino Mi mancava a far sbattere così Raga Proprio per concludere il viaggio Abbiamo sbattuto nella Nella pedana per Per Ah Ce la stiamo facendo pietre pietre Ragazzi miei Ce la stiamo facendo pietre pietre Sterza tutto Zio Ok Io non so se ci sarà un pezzo sano In questo camion Quando ci fermeremo Basta il motore Perfetto Magari evitiamo proprio O qui vicino Dove dobbiamo consegnare il lavoro Così Non diamo nell'occhio Riesce a fare questa curva Senza fare danno Ok Guardi Un viaggio perfetto signori miei Tranne qualche piccolo scossone Però è stato abbastanza un viaggio pulito Pulito Tranquillo Guarda che parcheggio perfetto Va Forse l'unica cosa buona di questo video Il parcheggio Riesci a piazzarglielo Un poco più avanti Ok Ce l'abbiamo fatta L'abbiamo fatta Caricalo Caricalo Scappiamo velocemente Signori miei Perché la vedo malissimo Lavoro Lavoro completato Bella raga Ciao Ciao Grazie a tutti